Perché diavolo vorrà questa terra se ne ha già tanta? Olsen è il più ricco allevatore dello Stato. È ingordo. No, è intelligente. Ha capito che questa terra è fertile. Io me ne intendo, sono agronomo. Ma guardate com'è grassa e ricca di hummus. Basterà graffiarla e darà dei frutti meravigliosi. Tom, hai raccolto una merda di cavallo. Un vero esperto. Ce ne vorrà del tempo per farlo diventare un uomo.